San Pio da Pietrelcina, è considerato uno dei santi più venerati e amati, durante la sua vita, ha dedicato se stesso a Dio e alla lotta spirituale contro le forze oscure. Molte persone si rivolgono a lui per chiedere aiuto e consiglio riguardo alla presenza di demoni nelle loro vite. Per capire come Padre Pio ci aiuti a scoprire se ci sono demoni nella nostra vita, è importante prima comprendere chi sono i demoni e quali sono i segni della loro presenza. I demoni sono esseri spirituali malvagi che cercano di allontanarci da Dio e di influenzare negativamente la nostra vita. Si dice che abbiano poteri sovrannaturali e cercano di creare disordine, discordia e distruzione nelle nostre vite. San Pio aveva una connessione profonda con il mondo spirituale. Era noto per avere esperienze mistiche e visioni angeliche, ma ha anche avuto numerosi incontri con il demonio stesso. Durante la sua vita, Padre Pio ha sperimentato l'attacco dei demoni in molte forme, tra cui tentazioni, persecuzioni e addirittura possessione diabolica. La sua esperienza personale con i demoni gli ha fornito una conoscenza approfondita delle loro tattiche e strategie. Padre Pio era in grado di riconoscere la loro presenza nella vita delle persone attraverso diversi segni. Ecco alcune delle indicazioni che ci ha lasciato per identificare la presenza dei demoni. Oppressione spirituale. Se si sperimenta un senso di oppressione costante, paura irrazionale o angoscia interiore senza una ragione apparente, potrebbe essere un segno della presenza di un demonio. Tentazioni intense. I demoni cercano di indurci al peccato e di allontanarci da Dio. Se si è soggetti a forti tentazioni persistenti e irresistibili, potrebbe essere un segno che siamo sotto l'influenza di forze maligne. Visioni uditive negative. Le visioni o le esperienze uditive di presenze oscure, voci minacciose o illusioni possono indicare una presenza demoniaca. È importante notare che non tutte le visioni o le esperienze paranormali sono necessariamente legate ai demoni, ma se causano paura e turbamento, potrebbero richiedere ulteriori indagini. Rottura dei legami spirituali. Se si nota una rottura o una mancanza di connessione con la propria fede o la spiritualità, potrebbe essere il risultato dell'influenza demoniaca. I demoni cercano di allontanarci dalla preghiera, dai sacramenti e dalla comunione con Dio. Effetti fisici e psicologici. La presenza demoniaca può manifestarsi attraverso effetti fisici e psicologi. Questi possono includere malattie misteriose, dolori inspiegabili, disturbi del sonno, depressione, ansia e attacchi di panico. Aumento della negatività e della discordia. La presenza di demoni può portare a un aumento di conflitti, litigi e tensioni nelle relazioni interpersonali. Si può notare un aumento della negatività, dell'ira e della discordia intorno a sé. Manipolazione emotiva. I demoni cercano di manipolare le nostre emozioni per renderci vulnerabili e influenzabili. Si possono sperimentare improvvisi cambiamenti di umore, sentimenti di tristezza, rabbia o disperazione che sembrano provenire da nessuna parte. Blocco spirituale. La presenza dei demoni può ostacolare la nostra crescita spirituale e impedirci di progredire nel nostro cammino di fede. Ci si può sentire bloccati, privi di motivazione e incapaci di connettersi con Dio. Una volta che si è consapevoli di questi segni, come Padre Pio ci aiuta a scoprire se ci sono demoni nella nostra vita? Padre Pio ci offre una guida spirituale preziosa attraverso la preghiera, la penitenza e l'intercessione. Egli ci insegna a rivolgerci a Dio per chiedere protezione e liberazione dai demoni. Prima di tutto, è importante avere una vita spirituale solida. Padre Pio incoraggia una vita di preghiera costante, frequente partecipazione ai sacramenti e una relazione personale con Dio. Queste pratiche ci aiutano a rafforzare la nostra fede e a sviluppare una connessione più profonda con il Divino. Padre Pio consiglia di rivolgersi a un sacerdote esperto in esorcismi o a un direttore spirituale qualificato se si sospetta una presenza demoniaca nella propria vita. Queste figure possono aiutare a discernere la natura dei segni e dei sintomi che si stanno sperimentando e a fornire una guida appropriata. Ha anche incoraggiato l'uso di sacramentali come l'acqua santa, il sale benedetto, le preghiere di liberazione e l'immagine sacra del crocifisso come mezzi di protezione e difesa contro le forze maligne. Questi sacramentali hanno un potere spirituale che può aiutarci a respingere le influenze negative. Infine, Padre Pio ci esorta a mantenere una vita di virtù, evitando il peccato e praticando la carità, la pazienza e l'umiltà. Questi atteggiamenti e comportamenti ci rendono meno suscettibili all'influenza dei demoni e ci permettono di vivere una vita di fede più autentica. In conclusione, Padre Pio, attraverso la sua profonda esperienza spirituale, ci offre una guida preziosa per scoprire la presenza di demoni nella nostra vita. Con la sua intercessione e il suo esempio di fede, possiamo trovare la forza e la protezione necessarie per combattere le forze oscure e vivere una vita di comunione con Dio.